quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori diego mancino ciao a tutti buona serata non te l'aspettavi no non me l'aspettavo molto divertente ed è solo l'inizio tra l'altro questo è c'è il capitato tra l'altro a diego non gli ho proprio spiegato una sega non sapevo neanche di dover parlare con tutti voi ma neanche di dover venire scuso se magari chiamo un taxi me ne vado per perché sono molto timido questo in cui ti trovi in questo momento è un talk si dice così che anche un podcast quindi poi sarà pubblicato credo se non metti in mezzo l'avvocato ha anche un titolo fantastico geniale oserei dire ci sono voluti svariati autori per pensarlo ma soprattutto diego la sigla ci tengo che tu ascolti la sigla vai fa cagare o no no va benissimo va beh si serve così giusto per per dare completezza al format ed è l'unica cosa stabilita di quello che succede perfetto ma soprattutto con te te proprio ho voglia di non sapere nulla perché con questo signore qua ormai qualche anno che ci si conosce lì raccontavo lì era ancora poco all'inizio poi da allora è diventato veramente un fratello forse dei tanti di quelli con cui mi è capitato per fortuna nella vita di collaborare forse sei quello con cui l'amicizia è diventata una cosa proprio oltre che va oltre tutto beh ragazzo è vero è una cosa guarda che è una dichiarazione d'amore bellissima ma noi ce ne facciamo spesso ti voglio bene tanto soprattutto quando mi fa sentire che è vero credibile ma è vero e poi te lo sto dicendo peraltro da sobrio finora era successo forse molto raramente e per me ormai milano coincide con diego mancino non c'è una volta che io vado a milano pur conoscendo un sacco di gente a milano ci ho anche passato del tempo della mia vita anche tempo importante ma ormai quando vado a milano la persona l'unico che avviso ogni volta è diego e ci ritroviamo in genere a mangiare un postaccio anzi poi potrei perfino farlo vedere forse vediamo però prima volevo dirti questo che in realtà andando a spulciare un po leggere un po di cose che non è neanche facilissimo fra l'altro su wikipedia non è neanche carina nei tuoi confronti non so se ti è capitato no è vero però frequento molto poco internet mi annoia mi annoia inizia dicendo una cosa tipo diego mancino per un bel po non se lo caga nessuno una roba del genere sì sì no è vero è vero però alla fine questa cosa di non essere cagati tantissimo mi ha aiutato perché non ho tante rotture di scatole io per esempio dico ai miei amici quando mi incontri ti se ti piaccio di in giro che sono una persona orribile perché così almeno non vengono a cercarmi e forse anche questa cosa di internet mi aiuta c'è una persona che c'è ma forse non c'è non si sa benissimo e a me sta bene pare vero invece la verità è che a casa sua ci va un sacco di gente perché sta in un posticino isolato con una piccola bel giardino un posto dove si sta molto bene e ogni volta che vado c'è sempre gente non succede mai sì è una specie di rifugio è un asilo per persone come te per anziani quindi sì no ricordo abbiamo fatto il compleanno ti ricordi il compleanno di quello di quel ragazzo che sta il colpevole Daniele il mafio tortora quello che vi fa ascoltare abbiamo fatto un compleanno a casa mia suo dove c'era tutta la band più amici eravamo tipo 30 persone in una casa molto più piccola non ricordo tanto di quella serata però sì sì però era così però stavo dicendo che andando a spulciare però effettivamente un po lo sapevo ma quanto no tu hai passato la vita viaggiando per un sacco di tempo a presto credo a tuo padre non ho capito bene cioè diciamo sei diventato davvero milanese pur essendo ci nato dopo molto dopo sì 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 perché in seconda terza elementare mi mi fecero andare in un collegio in svizzera poi in svizzera francese e poi seguì un po loro mio padre aveva un'orchestra perché perché mio padre aveva questa orchestra da night una volta c'erano i night club con le orchestre adesso ci sono i dj una volta c'erano sette otto dieci persone che suonavano come fanno i dj adesso tutte le canzoni possibili e la mia famiglia girava magari per sei mesi sei mesi a marsiglia piuttosto che a ginevra piuttosto che in germania insomma e quindi un po era una specie di circo di sì era un vero e proprio circo itinerante di persone giovani meno giovani che vivevano per mesi lontano dall'italia e la mia vita si è svolta moltissimo altrove e avevo di milano questa questa magia questo questo mito di una casa che in realtà era la casa di quando ero un bambino di prima elementare no però me la sono andata a riprendere dopo da grande l'ho fatta diventare la mia milano ovviamente scoprendo che era diversa da come l'avevo mitizzata però l'idea di essere sì milanese ma con un'anima più miteleuropea più irlandese più francese è rimasta molto forte anche inglese hai fatto pure un periodo a birmingham sì avevo una band con roberto dell'era conoscete roberto dell'era il musicista se non lo conoscete ve lo facciamo vedere perché ce l'abbiamo aveva una bella numero 5 luca è un fratello perché è una delle cose in comune ma non posso dire tanto perché posso definirti anche il badante di roberto dell'era o è in sua assenza è tanto alto però è come lo vivo come un fratello minore no anche perché l'età anagrafica ovviamente non sarebbe tale ma quella invece spirituale di uno di sette anni di roberto dell'era però insomma è un adorabile è un bambino adorabile di grande talento con lui ho fatto tantissime esperienze musicali ho imparato a suonare in band all'estero con lui ma ecco ma questo vuol capire hai iniziato a suonare all'estero hai iniziato a suonare già ho iniziato suonando nei garage per limonare sì è la verità cioè non è che ero proprio prestante non sono mai stato un bel ragazzo però avevo scoperto che se suonavi riuscivi a limonare e allora ho iniziato a far finta di essere uno che suonava sì ma all'inizio è un po' maledetto dai un po' ce l'avevi no poi ha funzionato funziona benissimo il mio consiglio è se non sai come limonare di che sei un batterista un chitarrista anche se non sai farlo non è importante le ragazze non vogliono sapere che sai suonare voglio povera maurina che sta a casa in questo momento e però no mi interessava anche capire quanto ti ha influenzato il tuo padre perché mio padre sì perché però forse è molto meno di quello che mi sono immaginato per certi versi però al stesso tempo uno che io so che lui suonava ti racconto questo lo vogliamo posso farlo vedere mio padre mi dai mi mandi la otto eroe d'epoca aiuto qui se non sbaglio questo è mio padre come hai fatto a trovare questi sono i valentino no sono i baby luna ah questi sono i baby luna sono i baby luna lui suonava rock and roll il mio padre è quello in ginocchio se sarà spaccato in ginocchio probabilmente non so però sì mi ha influenzato tanto ma in realtà io non ho vissuto questo papà quando mio padre è quello in mezzo guarda che storia ma fantastica sta cosa se vuoi adesso poi mi mette se maria dei filippi se vuoi ti faccio anche sentire i valentino no veramente tu hai te l'ho detto nell'orecchio no no l'abbiamo trovato ricorda che ricorda che eh sì quello che a me stai facendo un dì lo pagherà che belli rocchettari daniele silvestri è il diavolo lo sapete voi cioè questa roba qua cioè è veramente diabolico vai luca manda giù manda giù però valeva la pena allora la verità è che quando ero molto piccolo diciamo un bambino di terza elementare eh mio padre suonava nei night tutta la notte io dormivo di solito nell'hotel sopra al night per esempio a marsiglia ma siccome non avevamo nessuno che badasse a me quello che succedeva molto spesso è che io dormivo sotto il pianoforte di mio padre mio padre aveva questo piano elettrico con una specie di coperta blu elettrica che arrivava fino fino ai piedi insomma e io stavo là sotto con un tamburello e suonavo follemente questo tamburello finché non mi addormentavo nella copertina e nel cuscino e vivevo lì praticamente facevo anche le prove della band di mio padre che provavano tutti i giorni le nuove canzoni di classifica e il mio posto era quello e forse ti interrompo solo per dirti che c'è un'analogia anche in questo perché io pure dormivo sotto al tavolo su cui mio padre che non ha mai suonato ma sempre scritto scriveva perché avevo una stanza piccola ed era sia lo studio di mio padre che la mia stanza da letto e il mio letto finiva sotto al tavolo eravamo degli animali da compagnia praticamente non lo so però pure quella me ha influenzato cioè io mi addormentavo sentendo il rumore della pena sul foglio o delle dita sull'olivetti ricordo molto sia il rumore delle canzoni ma ricordo anche le parolacce dei grandi perché comunque erano ragazzi di 25 anni 30 anni più grande che avevano ovviamente un linguaggio che non era proprio quello adatto a un bambino e però là sotto protetto da questo tendaggio io potevo ascoltare tutto il loro linguaggio e mi sentivo adulto in realtà non capivo le canzoni non mi interessavano in realtà mi piaceva tenere il ritmo ma la cosa che mi piaceva di più era far parte del mondo adulto di quelle persone e forse i rumori della musica erano più che il suono erano i rumori dei piedi erano i rumori per esempio per anni ero convinto sono stato convinto che i fiati fossero d'oro quando un giorno li vedi durante al di giorno durante le prove che non erano d'oro io fui scioccato perché pensai ma come non è d'oro questo sassofono non è d'oro la tromba forse quello è stato il mio primo shock però io per tanti anni credevo che fossero d'oro gli strumenti e che i rumori dei piedi i rumori delle cose proprio della materia degli strumenti fosse quella la musica diciamo un po' lo è in un certo senso un po' lo è un po' lo è un po' come se pensassimo che è il rumore della macchina da scrivere forse sono le parole stesse no? sono più il rumore che fanno sì anche la mia associazione è quella cioè di me bambino è molto così attacco il suono che peraltro è anche un suono ritmico no? ma con un ritmo che non segue le regole musicali ma segue le regole del racconto o dell'ortografia non lo so della sintassi però in realtà è un ritmo comunque è un ritmo che già in qualche modo ti fa capire che storia stai sentendo se sei abbastanza fulminato probabilmente o alienato perché l'hai sentito per così tanto tempo però le parole che stai mettendo comodo che questa cosa potrebbe durare un secolo scusate vi dà fastidio se sto così no? ma no non è quello è che ho capito no stavo pensando stiamo dicendo del rumore delle parole no? in realtà le parole sono arrivate molto da adesso il mio lavoro sono le parole però le parole sono arrivate nella mia vita molto dopo e sono state più devastanti della musica decisamente di più come sono state veramente un'epifania scoprire che le parole hanno dei significativi che io non pensavo avessero no? allora ti posso dire però questo che non so esattamente quando sono arrivato nella mia vita so che nel 2005 credo tu hai pubblicato cose che cambiano tutto le parole sono tue? eh sì quando io ho sentito quella canzone quel disco ma quella canzone in particolare fra l'altro merito di Lisa che sarebbe la prima immagine che avrei dovuto far vedere come cosa che abbiamo in comune quella che ci ha fatto incontrare mia moglie Lisa non sticarsi adesso di questo ma quando ci ha fatto sentire lei per la prima volta cosa che cambia sì sì lo so quello che è arrivato a me era qualcosa che non avevo ancora sperimentato cioè un modo di dare un peso alle parole che io non ho forse mai trovato sì mi vengono in mente degli esempi singoli di alcuni di alcuni anche o grandi cantatori o grandi cantanti tutti di un bel po' di tempo fa perché tu hai un modo secondo me espressivo oltre a essere una delle voci più belle proprio secondo me che su questo suolo ma il modo in cui riesci a dare il peso alle parole che pronunci certe volte per me è stato comunque di insegnamento negli anni e non l'ho trovato molto spesso e infatti questo signore che nonostante appunto se a me non dovrebbe fare altro che cantare ed essere chiamato a cantare ovunque però poi ha trovato una sua dimensione nel diventare uno degli autori forse adesso più cercanti sì è stato non è così tanto in realtà ho iniziato a fare veramente l'autore diciamo intorno ai 40 anni ok mi dici un po' di quelli però per con cui hai lavorato per cui hai scritto ok tutti no tutti no diciamo la prima 78 ho iniziato la prima canzone proprio che il mio ai tempi avevo come editore Klaus Bonoldi che è un editore uno dei più illuminati probabilmente e piazzai questa canzone a Klaus Bonoldi è qui no è impossibile si sarebbe capito no piazzò questa canzone che si chiamava Odio tutti i cantanti che io gli feci sentire tipo gli feci sentire 5 o 6 canzoni e poi gli dici e poi c'ho questa che vabbè è una cagata e lui mi disse ma no questa te la piazzo domani fu così e mi insegnò mi insegnò che quello che per me per me come Diego Mancino cantautore non è adatto non sembra adatto a volte invece è proprio quello che è più utile e comprensibile per i cantanti i cantanti sono una razza a parte nella musica sono più simili agli attori sono contenitori che hanno bisogno di contenuto sono in realtà bottiglie vuote spesso che però sono bravi a volte a contenere delle cose ovviamente con dei linguaggi che a loro devono essere consoni e scrivere è diventato per me da piccolo la prima veramente il primo fuoco che ho avuto nella mia vita non è stato per la musica è stato per la poesia io piangevo leggendo Arthur Rimbaud e quelle robe lì ancora oggi piango meno però li leggo ancora oggi però ho capito che quella cosa cioè la parola aveva per me qualcosa di strepitoso di magico ero più bravo decisamente a scrivere che a suonare e allora ho iniziato a scrivere per Gianni Morandi per Emma Marroni per Fabri Fibbra per che ne so per Noemi per Arisa ma pure per questo qua ma è un sacco di gente fammi vedere la due prego hai scritto pure per quest'altro amichetto tanto per citare un'altra cosa in comune cioè hai collaborato ma allora con lui no va bene io lo con questo qua quel ragazzo lì è uno dei talenti più clamorosi che ho incontrato nella mia vita ma quando lo incontrai io stavo facendo un disco con DJ Mike che ai tempi era il suo partner un DJ proprio due due giradischi e avevano fatto un disco con un pianoforte e due giradischi e lui veniva a casa mia e tu lo conosci insomma stava muto era una presenza ok immane potente ok e abbiamo giocato molto tra di noi sullo scrivere perché in realtà io ero meravigliato dalla sua capacità c'era questa canzone che si chiama Lo spazzacamino una sua canzone cupa dark veramente proprio sembrano i bow house e io ero molto innamorato della sua scrittura e lui invece trovava trovava incredibile come io chiudessi le rime in maniera sbagliata non consona ok che poi in realtà è un tipo di stile che possiamo definire numero tre cioè lavoro sulla terza chiusura e non sulla quarta è una roba tecnica molto noiosa però in realtà è vero cioè c'era una corrispondenza sulla ricerca lessicale il cuore è pazzo da quel punto di vista no lui è stupendo cioè è coraggioso la scrittura gli scrittori a volte sembrano sono spesso molto più coraggiosi di quanto appaiano come mentre cantano perché poi quando si canta la parola diventa educata perché la educhi con la nota no ma in realtà leggendola è proprio selvatica e lui è selvatico spesso senza dubbio senti siccome io ho una voglia pazzesca di fare di suonare una roba con te prima di chiudere avrei voluto farvi parlare anche per esempio della numero 7 che sono altri amichetti che abbiamo in comune anche loro pur essendo brasiliani per me sono Milano che sono i selton i selton oppure avremmo paruto di far vedere la 6 che sono sempre i selton insieme a noi nel post-hatch in cui andiamo a mangiare a Milano qua è dove andiamo a mangiare dai peruviani violentissimi lui ha scelto come posto di residenza per fare le nostre cene un ristorante peruviano dove io mi ricordo la prima volta che siamo andati c'era questo tizio che trascinava una specie una cassa con le rotelle e cantava delle canzoni dei ranceros delle robe terribili però si mangia e in effetti però voglio far vedere il tuo local vino perché per ogni motivo però invece mi permetto di dire una cosa perché mi sta qua allora noi in realtà appunto a un certo punto è diventata tutta amicizia molto più che collaborazione però ci sono un paio di cose nel cassetto ma soprattutto l'ultima volta che ci siamo visti a Milano io per scherzo quasi gli ho detto senti c'è qualche ora se ci vediamo scriviamo un capolavoro e lo diamo a e abbiamo e proprio ti ho detto alle 4 del mattino a chi l'avremmo dovuto dare qualcuno che stava per andare a Sanremo non facciamo il nome in realtà la cosa l'abbiamo fatta ma la persona in questione aveva già un pezzo per Sanremo quindi c'è rimasta a noi però la cosa è andata così lui mi ha risposto anzi non credo che abbia neanche preso sul serio quello che ho detto forse era un messaggio all'inizio ha detto ok vieni scriviamo un manuale di sopravvivenza in 10 minuti e poi andiamo a mangiare quella notte abbiamo scritto insieme un pezzo che oggi non sentirete me l'hanno impedito che si chiama proprio manuale di sopravvivenza e lo dico una figata è una delle cose più belle che abbiamo scritto insieme no è vero è un annuncio di qualcosa non vedo l'ora che ve la si possa fare ascoltare perché è veramente clamorosa perché la verità è che sopravvivere non è per un cazzo uno scherzo è veramente difficile ok e questa è una canzone che è rivolta a noi ma è rivolta anche a voi che fondamentalmente dice proprio quello dice che sopravvivere è una questione proprio è un dominio è un modo per dominare se ne parli ancora un po' la faccio no 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 perché poi mafio se la prende con me ok no facciamo un'altra cosa non vedo l'ora di farla però è questo scusa posso fare così signore e signori Diego Mancino e grazie amici e poi faccio anche così sigla siamo liberi oh hai visto dal podcast ho visto facevo finta di no ma l'ho visto allora io